12 milioni di euro di IVA e VASA. A tanto ammonta il sequestro di denaro effettuato dalle fiamme gialle di Piacenza che hanno scoperto nell'ultimo anno 48 evasori. A questi si aggiunge la denuncia di 112 persone per reati fiscali e di queste, 7 sono state arrestate. Si tratta solo di una delle numerose operazioni portate a termine dalla Guardia di Finanza negli ultimi mesi. Oltre 20 milioni di euro sequestrati sotto forma di beni, mentre nei 21 interventi nel settore accise sono stati rilevati i tributi e VASI per oltre 3 milioni di euro. L'attività del corpo è stata rivolta al contrasto di quei fenomeni evasivi che vanno dall'emissione ed utilizzo di fatture false alle cosiddette frodi carosello che generano creditiva totalmente inesistenti dalle indebite compensazioni di imposte e contributi al fenomeno dell'esterovestizione. Sono stati inoltre segnalati appalti regolari per circa 200 milioni di euro e danni erariali per oltre 1,3 milioni di euro. 18 persone sono state denunciate dall'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, sono stati denunciati 5 soggetti per riciclaggio di capitali illeciti per un totale di oltre 500 mila euro. I militari hanno inoltre effettuato 68 interventi di intervento al traffico di stupefacenti con 11 arresti, 31 denunce e sequestri per più di 8 kg di droga. 125 sono stati gli interventi sulle prestazioni sociali agevolate, ovvero controlli che riguardano erogazioni a favore di soggetti che versano in delicate condizioni economiche e sociali, mentre nell'ambito della spesa sanitaria e previdenziale sono stati effettuati 24 controlli effettuati sui ticket sanitari. Un ampio lavoro eseguito durante l'ultimo anno e mezzo che ha portato in prima linea le fiamme gialle soprattutto nella lotta all'evasione fiscale. È quanto illustrato durante la celebrazione dei 246 anni della sua fondazione avvenuta questa mattina presso la caserma Luigi Galli, sede del comando provinciale.